Sveglia Buongiorno Buonasera Dobbiamo visitare un nuovo quartiere Ieri siamo tornati tardi e noi siamo soltanto andando in casa Non lo so no Eh come sembra C'era una rossa Ultras Si sente la qua che sta mangiando quel panda Tic toc Tic toc Buongiorno 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 No Uccidiamolo Te l'abbiamo pagata nelle case Quindi sei zitto In realtà l'ho costruito io Sei zitto che è già tanto che vivi con me Oddio mi stai uccidendo Che non paghi manco l'affitto Venita Ma andiamo vedete C'è qualcosa Vieni panda Non guardo neanche perchè c'è una guerra là Giù ci sono le fogne E quel traccio è piccolo Andate vai Eh che peccato Belli De questo video C'è la C verde C'è la C verde Cri La C Si 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 è anche il colorante verde Tic toc Chi è che ha aperto la porta Pikachu Sei un ladro L'ammazzo L'ammazzo Ammazzamolo L'ho devo uccidere io mi dispiace Vieni qui Vieni qui Vieni Non guardare da자기 mammazzati Vieni qui Sare�ncesso L'ho devo uccidere io Devo fare la pipi Non mi interessa sei sgarbato ma questa cosa di chi è c'è un letto azzurro ok ok scappate questa scena un cilito ragazzi uccidete il gatto uccidete il gatto uccidetelo scappo 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 dal l'acqua se l'è pure mangiato sei un perla hai tanto pure solo lui che l'ha lasciato non ci diamo a dare questa cosa mi piace molto questa cosa di chi è tu lì faccelo vedere faccelo vedere non mi mettete in mezzo oh bella volta ancora la devi arredare qui c'è il cesto sei ma perchè hai i due bidet vabbè non c'è il cesto bella ma perchè hai il letto marrone non te lo potevi mettere verde la postazione da gaming stasera ok ti ho bannato il canale è tornato Pikachu che facciamo c'è la casa di green ok ok si è messo nel cesto ma no ma no ma siamo appena arrivati in città non si è messo il bambino è in camera di green si dove è camera lì ma buona sera facciamo vedere noi direi che l'abbiamo vista già bene raga esploriamo la città tutti insieme aspettiamo Pikachu però amici eccomi aspettate no ho arrivato Pikachu vabbè andiamo a bussare d'Alex cos'è andiamo a visualizzare l'aspetto perchè stiamo camminando per strada venite su marcia a piede non è che la mia venite non si deve venite 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 fuori ushide 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 venite come sono buoni come stessi te le trasportate con uno dei vostri poteri perchè veramente nooo ti appartano per favore eh raga allora andiamo a proteggerci non lo so che nella banca quella che è tutta bianca sembra una città c'è la cruce andiamo a proteggerci in chiesa se nooo andiamo a essere pazzi per Gesù pazzi per Gesù ah no lo sapete che mi hanno convocato come prete mi hanno convocato come prete mi hanno convocato come prete raga lo sapete la ulcri oh la ulcri oh la ulcri la ulcedia la ulcedia bella la ulcedia ma pikachu raga andiamo a vedere pikachu quando ho smesso di bianca sta scappando sta scappando ha rubato ha rubato ha rubato che mi deve mostrare anni tutti anche questo ho preso a rubato anche il lighting frame è vero era pure anche quella non vedi più come scacchiatelo non vedi più con me non vedi più con me scacchiatelo non vedi più con me vai ciao tutti i pesci come erano buoni sono il predo posso fare quello che voglio il predo faccio quello che voglio chiudette dammi il camion lo guido io berlava per me sticca dammelo è mio raga uscite no raga troppe camion non ne ho finito ciao ciao via 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 vabbè ci vediamo domani mattina ciao 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 buonanotte buonanotte zitti buonanotte 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 no, lui vive con me madre abbiamo pure la casa abbiamo pure la macchina è no 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 buonanotte buonanotte è arrivata su di per sformare all'ora di notte a sformare ladri picassi sono i lacri picassi picassi aiuto 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 metto all'andella piciatolo piciatolo aiuto aiuto mi sto cercando andiamo a casa di alex anzi a casa di gree a casa di gree a casa di gree vai la roba rica ho detto anzi la panca la panca no no andiamo a vedere dobbiamo soltanto vederla oh bella bella che bella la banca vedete vediamo a vedere crino vediamo vedi vediamo a vedere manche su un botto di soldi non botte di soldi venite non abbiamo un botto di soldi venite non ci riusciamo a prenderlo ọi manure *********** ************* viene 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 Theni BU regardless titiko 網uga paura mi ha passato di pesce chiedevo 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 alex 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 fermo alex devo dire una cosa ho visto ho visto ultra squiglie che si mangiava un pesce chiediamo le fio si l'ho visto andiamo 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 chiedevo chiedevo come c'hai pesciato sto buttando i pesci in una strada alex 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 vieni alex ci incontriamo a casa tua ci incontriamo a casa tua alex alex ci incontriamo a casa tua dobbiamo farti una cosa ciao sono usciti questi quelli valli a depositare vai oh scacchio uccidete niente niente ma che è questo come si chiama c'è la voce di merda stessa voce di merda stessa voce di merda stessa voce di merda balliamo balliamo però andate a prendere i miei pesci balliamo balliamo sono andate a casa mia stessa voce di merda stessa voce di merda